Musica Precipita e muore durante un'escursione in Valgrande, si tratta del giornalista Arminio Ferrari di Cannobio. Le maestre sono positive, chiusa la scuola materna Enfrey di Baveno, tampone anche per i 50 piccoli alunni. D'anni alluvione, l'assessore regionale all'agricoltura, protopapa Enossola, ha incontrato i titolari di alcune aziende locali. Entro fine anno chiude il centro di accoglienza migranti Casa Letizia Domodossola, l'annuncio del sindaco Pizzi. Nova Cop, sabato torna a dona la spesa, a favore delle persone in difficoltà, ma è già possibile dare il proprio contributo. Primo festival corale del Lago Maggiore questo fine settimana a Verbagna e a Cannobio, poi il ritorno di archivi corali. Musica Ben trovati dalla redazione di Vicio Notizie, in apertura di giornale dunque la cronaca con l'incidente di questa mattina in Valgrande, costato la vita al noto scrittore giornalista di Cannobio, Erminio Ferrari, anche volontario del soccorso alpino. E' scivolato nella zona del Pizzo Marona, per lui non c'è stato nulla da fare. E' precipitato mentre era in escursione con la figlia, per lui non c'è stato nulla da fare. Caduta fatale stamattina nella zona del Pizzo Marona, in Valgrande, per Erminio Ferrari, scrittore e giornalista esperto di montagna e volontario del soccorso alpino decima delegazione Valdosso, la stazione Valgrande, gruppo di Cannobio, dove viveva. Allertati dalla figlia, subito sul posto, i colleghi soccorritori e un elicottero del 118, ma non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Aveva 61 anni. I colleghi del soccorso alpino lo ricordano come una persona riservata, che non amava mettersi in mostra o salire su un palco. Quando glielo abbiamo chiesto, però, l'ha sempre fatto, dice il delegato Matteo Gasparini, che era molto legato a Ferrari. Gasparini descrive una persona sempre umile e amante della montagna a 360 gradi. Amava scrivere delle terre alte, ma anche viverle nelle diverse sfaccettature. Domani sarebbe dovuto salire a recuperare le sue mucche in alpeggio per portarle a valle. Gasparini evidenzia la grande perdita, sia dal punto di vista umano che in termini di esperienza e conoscenza del territorio. Più volte gli avevamo proposto di diventare capostazione, ma non ha mai voluto, ha aggiunto il delegato. Il soccorso alpino decima delegazione Valdossola è stato impegnato nella giornata di oggi, sempre in Valgrande, anche per le ricerche di un uomo della Svizzera tedesca, che avrebbe dovuto fare rientro al lavoro lunedì, ma non si è presentato. Le sue tracce si sono perse proprio in Valgrande. Le notizie che possono aiutare a localizzarlo sono però al momento molto scarse. Viaggiava in treno e unico indizio sono alcune foto di Pogallo inviate alla fidanzata che si trova in Vietnam. Si tratta di un uomo di 45 anni. Covid, chiuso l'asilo Enfre di Baveno, positive le maestre. Tra oggi e domani i tamponi sui 50 piccoli che lo frequentano. Tutte positive al Covid, le maestre. Chiusa da ieri e per un massimo di 21 giorni la scuola materna Carlo Enfre di Baveno. Già lunedì la sospensione delle attività didattiche. Ordinanza del sindaco Alessandro Monti, che recepisce le disposizioni dell'azienda sanitaria. Già eseguiti i tamponi ovviamente sul personale e su due classi, domani sarà la volta della terza ed ultima. 50 ai piccoli che frequentano la struttura. L'allarme era scattato per un raffreddore di un insegnante. La prescrizione del tampone per sicurezza da parte del medico di base e l'esito positivo per il Covid-19. Domani attesi i primi nuovi esiti delle analisi. L'ordinanza viene emessa dal comune, ma è l'ASL che decide come e quanto chiudere. specifica il sindaco Monti aggiunge, in questo caso, fino a tre settimane, ma dopo 14 giorni, in caso di tamponi negativi sugli insegnanti, potrebbero già riprendere le lezioni. Il primo cittadino non nasconde la preoccupazione in città per quanto accaduto, ma il problema esiste non solo per noi, per tutti, aggiunge, e rimarca l'importanza di affrontarlo, secondo quanto indicato dall'ASL, rispettando l'enorme anticontagio che ormai tutti conosciamo. In aumento generalizzato i contagi anche nel nostro territorio, il punto per Novara e VCO. Sono in netto aumento i contagiati da Covid-19 tra VCO e Novarese. La rilevazione di oggi, mercoledì 14 ottobre, evidenzia Umegna con 20 persone contagiate, Verbagna 14, Domodossola e Baveno 4, Gravellona 3, Villa Dossola 2 e Stresa 1. Più critica la situazione e la realtà dell'Alto Novarese. Si è passati nei comuni presi in esame da 10 contagiati del 14 luglio, ai 24 del 24 settembre, ai 48 dell'8 ottobre, agli 83 di oggi. In 20 giorni sono più che triplicati e in tre mesi esatti sono otto volte tanti. Preoccupa Castelletto Ticino che in sei giorni sale da 13 a 19, raddoppia Borgo Ticino da 7 a 14, due volte e mezzo a Rona da 5 a 13, Meina sale da 3 a 5, raddoppia Gatti e Coveruno da 3 a 6, Pombia sale da 2 a 5, Varallo Pombia scende di 1 da 9 a 8, stabile Invorio a 3. Comignago non aveva contagiati dai primi di maggio, ora ne registra due. Un contagiato per l'ESA e Massino Visconti, sono due anche Nebbiuno, Paruzzaro e Dormelletto. Permangono a zero da aprile ad oggi Brovello, Carpugnino e Colazza. Con zero contagi da coronavirus sono immuni pure Belgirate, Gignese, Pisano o Leggio Castello. Le raccomandazioni delle autorità politiche e sanitarie sono massima cautela, mascherina sempre fuori casa, lavarsi spesso le mani, distanza di un metro ed evitare sembramenti. Infine trasmettere questa principale attenzione anche agli studenti, non allarmismo ma massima prevenzione. Ed ora vediamo gli ultimi aggiornamenti con il quotidiano bollettino serale della regione Piemonte. Ai numeri appena riferiti si aggiungono 4 nuovi positivi nel VCO, fermi gli altri dati e 13 nuovi contagi nel Novarese. Sempre in provincia di Novara anche un nuovo decesso covid positivo e due guariti più di ieri. A livello regionale 4 decessi nelle ultime ore, 499 nuovi contagi e 29 guariti. Crescono di 3 i ricoverati in terapia intensiva, 33 in totale, 79 in più i pazienti covid ricoverati nei reparti ordinari, 562 in totale. Ed ora torniamo sui danni dell'alluvione d'inizio mese, in particolare al comparto agricolo. L'assessore regionale competente Marco Protopapa oggi ha incontrato alcuni titolari di aziende alla stalla portea di Anzola Dossola. Le attività sono molteplici, sono realtà che colpiscono l'apicoltura, la zocternia, le culture a mais, a riso, realtà che veramente sono state distrutte da due giornate terribili per il nostro Piemonte. Sto parlando logicamente della parte nord del Piemonte ma non dimentico naturalmente tutto quello che è successo nella zona del Cunese. I nostri interventi sono interventi puntuali, stiamo istruendo le pratiche, stiamo segnalando quali sono i percorsi che saranno da fare per tutte le aziende, nelle procedure normali e insieme alla protezione civile. Stiamo aspettando in questo momento che avvenga il riconoscimento del stato di calamità. Naturalmente nel frattempo vi annuncio che ci sarà comunque un sostegno immediato con la misura 21 che è legata all'azione regionale per le aziende agricole per il Covid. In questo passaggio saranno interessate le aziende della zocternia da carne, della floricoltura e dell'apicoltura. Perché i danni sono tanti, l'agricoltore e l'allevatore che hanno perso 1200 capi, gli apicoltori che hanno perso gran parte dei loro api e i loro alveari, la stala portea che ha avuto dei danni importantissimi. Abbiamo cercato di riunire diverse categorie per parlare insieme all'assessore e capire come intervenire, come dare una mano. Perché queste aziende che già vivono di un'agricoltura eroica di montagna, in difficoltà incredibili, devono essere assolutamente aiutate e salvate. La Cia Agricoltori Italiani, vicina ai suoi soci, vicina in un momento così drammatico per il nostro Piemonte e per questa vallata, un'alluvione disastrosa, siamo venuti a fare un po' la conta dei danni con l'assessore Protopapa che ringraziamo della visita e cerchiamo di dare una mano velocemente per ripristinare il tutto e pagare gli agricoltori che hanno questi seri problemi per riprendere il lavoro. La cronaca incidenti con fuga, tre recenti casi risolti dalla polizia stradale di Domodossola. A Verbagna invece, nello scorso fine settimana, un'auto civetta della stradale di Verbagna ha ritirato la patente ad una trentenne. Incidenti con fuga, sono ben tre i casi affrontati e risolti dalla polizia stradale di Domodossola nei giorni scorsi. Il primo ha avuto come protagonista un minorenne che con il suo motorino era finito contro un'auto parcheggiata procurandosi anche delle lesioni. I proprietari del veicolo danneggiato hanno chiamato gli agenti che hanno poi rintracciato il ragazzino in ospedale. Si era fatto accompagnare dalla madre a farsi medicare. Le aveva detto che cosa avesse fatto. I genitori sono quindi stati sanzionati per il mancato controllo della moto, la guida senza patente, la mancanza dei requisiti psicofisici per la conduzione di veicoli e in cauto affidamento per un totale di 5.000 euro. Analoghi casi sono accaduti anche nei giorni successivi. In uno dei due, i danni riportati dal veicolo danneggiato da un fuggitivo erano molto ingenti. Rintracciata la responsabile una quarantenne. Sulla statale della Valle Vigezzo, a Druogno invece, una pattuglia della Polstrada ha notato che il gun rail era stato danneggiato di recente per circa 10 metri. Sul posto hanno trovato dei pezzi di plastica probabilmente persi dall'auto che lo aveva urtato. Il responsabile del danno, un trentenne, è stato rintracciato in una carrozzeria di crevola ad ossola dove era andato per riparare la sua utilitaria. A Verbagna invece, nello scorso fine settimana, un'auto civetta della stradale ha ritirato la patente a una trentenne che alla guida di un'utilitaria lungo la stradale 34 in direzione Verbagna, aveva fatto due sorpassi a forte velocità all'altezza degli incroci con via Partigiani e via 20 Settembre. È stata anche sanzionata per guida pericolosa in centro abitato, perdendo 10 punti dalla patente. I funzionari dell'Agenzia Dogane Monopoli del VCO, sezione Zelle di Trasquera in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Zelle hanno scoperto 61.600 franchi svizzeri e 19.170 euro per i quali non è stata presentata la obbligatoria dichiarazione valutaria nascosti all'interno di tre autovetture provenienti dalla Confederazione Elvetica. I viaggiatori, avvalendosi della possibilità di definire in via agevolata la violazione, hanno corrisposto a titolo di oblazione un importo di poco superiore ai 6.000 euro. Prosegue l'attività dell'Agenzia al fine di costituire un efficace contrasto al traffico illegale trasfrontaliero di valuta. Chiuderà i battenti Casa Letizia a Domodossola, lo ha annunciato il sindaco Pizzi. Un annuncio che non è passato sotto traccia in casa del Partito Democratico. Entro fine anno il centro accoglienza migranti di via San Francesco a Domodossola chiuderà i battenti. Ad annunciarlo oggi il sindaco Lucio Pizzi. La struttura in gestione al Cisossola era l'ultima attiva sul territorio domese. Gli altri centri dislocati, per lo più in appartamenti, sono stati smantellati negli anni. Del resto è quanto il primo cittadino ha chiesto ai vertici del Consorzio Servizi Sociali all'indomani della sua elezione, più di quattro anni fa. Ed è anche quanto Pizzi ha ribadito anche oggi nel comunicato inviato ai mezzi di informazione locali. Da subito, ricorda il sindaco, ho chiesto alla prefettura e ai soggetti che si occupano della gestione dei migranti un cambio di indirizzo. Il riferimento è alle politiche adottate dalle amministrazioni che hanno preceduto l'attuale giunta. La stessa presidenza di Pizzi, alla testa dell'Assemblea dei Sindaci del Cisossola, è sempre stata improntata ad una razionalizzazione del numero di migranti sul territorio di tutta la Valdossola. La decisione di annunciare anzitempo la chiusura del centro di Casa Letizia Francescana è così spiegata da Pizzi. A fronte della rinnovata volontà da parte del governo PD-Movimento 5 Stelle di riaprire le braccia a quell'immigrazione fuori controllo, volta a inondare i comuni italiani di centri di accoglienza. Annuncio che non è passato sotto traccia in Casa Dem. I consiglieri Bolognini e Mauro hanno così commentato «Ci pare la destra domese, sindaco in testa, abbia iniziato con la solita campagna elettorale, il solito disco rotto sui migranti per nascondere scelte sbagliate in merito a plateatici etari, il tutto per tenere buona la Lega». E per segnalare inadempienze del governo Pizzi, i consiglieri Piddini citano la lettera con cui il Comune ha indicato, nel 31 ottobre, la data ultima entro cui poter usufruire dei plateatici aggiuntivi concessi a seguito dell'emergenza sanitaria. Peccato, tuonano dalla segreteria domese del PD, che l'emergenza Covid è ancora in atto. Nuova Coop, sabato torna, dona la spesa a favore delle persone in difficoltà, l'iniziativa anche nei supermercati locali, ma è già possibile dare il proprio contributo acquistando beni a lunga scadenza. Torna, dona la spesa. Nuova Coop raccoglie beni alimentari in favore dei bisognosi. Appuntamento sabato 17 ottobre nei 55 negozi della rete vendita in Piemonte e Lombardia. Nel VCO l'iniziativa si terrà nei punti vendita di Crevola Dossola, Domodossola, Gravellona, Verbagna Intra, Omenia, Villa Dossola. Lo scorso anno ha permesso di raccogliere beni per un valore superiore ai 100.000 euro. L'iniziativa è resa possibile, come sempre, dalla generosità di soci e volontari delle ONLUS, con le quali la cooperativa collabora da anni per tendere una mano alle persone in condizione di disagio economico. Quest'anno sarà possibile inoltre donare beni per tutta la settimana che precede la giornata di raccolta, conferendo le confezioni in un carrello dedicato, presente nei punti vendita. Sabato i clienti saranno accolti all'ingresso dei punti vendita nel rispetto di tutte le misure imposte per il contenimento del contagio da Covid. Verranno loro consegnate le buste per la spesa, accompagnate da informazioni sui prodotti più adatti da donare, ovvero quelli a lunga conservazione. I beni raccolti verranno gestiti direttamente dalle ONLUS locali, che si occuperanno di distribuirli. La collaborazione è con Caritas di Domodossola, Villa Dossola, Gravellone e Omegna, Croce Rossa Domese, Assessorato ai Servizi Sociali e Croce Verde di Gravellona, Ciscusio e Ossola, San Vincenzo di Omegna, Emporio dei Legami di Verbagna. Dona la spesa, insieme al progetto Buonfine per il recupero degli alimenti venduti e prossimi alla scadenza, si inserisce nel più ampio programma attraverso il quale NovaCoop genera valore condiviso per le comunità e i territori in cui è presente. Dona la spesa, assume in questo anno particolare difficile un valore ancora più significativo, perché l'emergenza sanitaria, spiega Silvio Ambrogio, direttore politiche sociali NovaCoop, si è tradotta per molte famiglie in un'emergenza sociale, e NovaCoop, fin dai primi giorni di marzo, ha sviluppato ulteriormente i rapporti con le Ollus territoriali per portare un aiuto. Presentato in Cappella Mellerio a Domodossola il promo del cortometraggio Damo alla solitudine ai tempi del virus, tratto dall'omonimo racconto dello scrittore ossolano Alessandro Chiello, voluto dall'associazione Domometraggi che sarà presentato ai festival nazionali e internazionali. Il progetto ha l'ambizione di realizzare un corto che metta in luce anche alcuni dei punti più caratteristici di Domodossola, ma nel video ci siamo anche noi. Dopo il promo al via il crowdfunding perché il video possa diventare realtà. Io mi occupo di produzione video da diversi anni a livello professionale, e è un po' che cerco un soggetto adatto a provare a cimentarmi con questo segmento delle produzioni video, che sono appunto le produzioni sceneggiate, quindi cortometraggi, film. Quando durante il lockdown ho letto il racconto di Alessandro, avevo già letto alcuni dei suoi libri, ho trovato che fosse un soggetto che calzava rispetto al progetto che avevo in mente. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, edizione del nostro giornale per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Sono il commissario di un piccolo distaccamento della polizia di Stato in una città di confine. Non mi sono mai sentito così inutile. Non posso prendere servizio e non ne posso più di starmene in casa. E anche se non mi piace abusare del mio ruolo per andarmene in giro, è quello che sto per fare. Ho aderito con entusiasmo a questo progetto, abbiamo nato da un mio racconto scritto durante il lockdown. Come si può per il commissario Gigi durante il lockdown? Come tutti soffre nello stare in casa, infatti sfrutta il suo tesserino di commissario per farsi delle piccole passeggiatine fuori legge al Calvario, dove farà un incontro particolare. La solitudine, compagna fedele degli ultimi anni della mia vita, ora che ci è stata imposta, si è rivelata nella sua natura più brutale. Solo qui diventa almeno sopportabile. Nel mio personale rifugio di pace e di libertà. Questo può essere l'inizio di un percorso? Ma Domometraggi, che è l'associazione che abbiamo creato insieme, è un'associazione che si pone l'obiettivo nel tempo di creare dei prodotti filmici di qualità che mettano in luce le bellezze del territorio. Quindi questo per noi è, o può essere, un punto di partenza, perché chiaramente noi adesso abbiamo girato questo teaser per presentare al pubblico e alle persone la nostra capacità di fare una produzione di qualità, la capacità dell'attore che abbiamo scelto di recitare il ruolo del commissario e speriamo di recuperare i fondi necessari a coprire i costi della produzione. Questo è un po' l'intento che abbiamo nei prossimi due mesi, quello di cercare di coinvolgere le persone, sia attraverso un crowdfunding, sia attraverso la ricerca di sponsor e raccogliere i fondi necessari. Un weekend all'insegna della coralità, quello che ci attende sul Lago Maggiore, a Verbania e a Cannobio, un nuovo appuntamento dell'associazione Cori Piemontesi per ribadire che la passione per la musica e il canto, insieme ma in sicurezza, è più forte della pandemia. Questo fine settimana, il 16, 17 e 18 ottobre, si terrà a Verbania e a Cannobio il primo festival corale del Lago Maggiore, fortemente voluto dall'associazione Cori Piemontesi per dare un segnale forte di quanto sia viva la coralità nonostante le enormi difficoltà scaturite dalla pandemia, la presentazione a Villa Giulia a Verbania. Ed è una novità, in quanto con questa pandemia non abbiamo voluto eliminare il concorso, quindi eliminare del tutto quello che sono le nostre attività concertistiche, ma abbiamo voluto dare la possibilità ai Cori di rimettersi un attimino in gioco dopo questo periodo di lockdown. Quindi è nata l'idea del Festival Corale del Lago Maggiore, che comunque proseguirà anche poi nei prossimi anni come appendice di apertura del concorso. Due, dicevamo, le location scelte, Verbania e Cannobio. Sì, l'idea è proprio quella di far traghettare il Festival Corale su tutto il Lago Maggiore, quindi quest'anno inizieremo da Cannobio e Verbania con la speranza poi di toccare tutte le località del lago. A seguire, dal 19 al 25 ottobre, si terrà a Villa Giulia la quarta edizione di Archivi Corali. L'abbiamo riconfermata, fortemente voluta, perché riteniamo che sia una manifestazione molto importante per la città e soprattutto per la collaborazione che abbiamo con gli istituti scolastici che, si ripeto, in quest'anno un po' particolare è anche una bella valvola di sfogo per i ragazzi per poter comunque partecipare a delle manifestazioni organizzate proprio anche per loro, per la loro cultura. Il programma del Festival Corale venerdì alle 21 nella collegiata San Leonardo di Pallanza aspettando il Festival, concerto in memoria di Laura con The Blossomed Voice. Sabato, dalle ore 15, al Teatro Comunale di Cannobio esibizioni dei cori iscritti a seguire open singing e alle 21 concerto del coro giovanile piemontese diretto dal maestro Simone Bertolazzi e del coro La Bricolla di Falmenta diretto dal maestro Vittorino Grassi. Domenica dalle 15 nella chiesa di Santo Stefano a Pallanza esibizione dei cori iscritti introduzione a cura del coro giovanile piemontese a seguire a Villa Giulia a Verbagna Pallanza open singing con tutti i cantori delle formazioni corali coinvolte. La nostra programmazione, nuovo appuntamento su VCO Azzurra TV con il Centro Servizi per il Territorio di Novara e VCO e l'Infinito Dentro un Bisogno in onda il giovedì alle 18 e ancora venerdì alle 13 alle 21.30 le anticipazioni di questa nuova puntata. Riparte l'Infinito Dentro un Bisogno l'incontro, voi sapete la trasmissione con la quale apriamo la finestra sul mondo del volontariato alla ricerca di testimoni del presente. Ripartiamo l'anno 20-21 con una puntata particolare dedicata ad un'emergenza un'emergenza che è iniziata già a tempo addietro, voi sapete che vedrà un'associazione, l'associazione del gruppo Scorpion impegnata in questo caso nell'emergenza Covid e chi vorrà seguirci vedrà facendo cosa ma lo spettro nella chiacchierata che abbiamo fatto con il nostro ospite ci ha portato davvero a scoprire alcuni punti forti di cosa vuol dire fare volontariato oggi ed essere volontari oggi per cui vi chiediamo davvero di seguirci perché il volontario è sempre in prima fila ma per poter essere in prima fila occorre in qualche modo lavoro, professionalità, formazione e fare rete renderemo tutto questo attraverso una serie di esempi concreti e in chiusura l'appuntamento settimanale con le riflessioni del parroco di Cesare a Don Renato Sacco è uscito un nuovo decreto la situazione sanitaria è ancora molto preoccupante tutti siamo preoccupati non vogliamo certo dimenticare chi ha avuto problemi con l'alluvione una decina di giorni fa ma vogliamo comunicare speranza per dire guardiamo la realtà, non lasciamoci prendere come scrive Tonio Dell'Oglio che è il presidente della Procevitate Cristiana di Assisi sulla rubrica di Mosaico di Pace si chiama Mosaico dei Giorni dice c'è gente che nega anche l'evidenza per intenderci sono quelli che la terra è piatta che le scie chimiche, le quattro stagioni che la pandemia è un'invenzione come pure i campi di concentramento nazisti che le vaccinazioni sono il flaggello dell'umanità aggiungo io visto che ce l'ho qui anche quelli che dicono che la mascherina viola la libertà eccetera Tonio Dell'Oglio dice all'inizio pensavo fosse un problema di ignoranza col tempo mi sono persuaso che il problema è più profondo non è solo l'ignoranza nel senso del non sapere è una miscela velenosa tra ignoranza, presunzione desiderio di preveralere, ricerca identitaria, vanità ecco, credo che sia una situazione che preoccupa anche me faccio mie queste parole e conclude Tonio Dell'Oglio è un fenomeno di tale evidenza che solo i negazionisti potrebbero negare ecco allora con l'augurio di restare umani di guardare con realtà la realtà di volerci bene a vicenda di rispettarci a vicenda vi saluto e ci vediamo venerdì con Non Di Solo Pane grazie Don Renato vcoazzurotv.it le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti grazie per averci seguito arrivederci alle prossime edizioni